Sant'Ermette, Iang e Sant'Arcangelo si affrontano nell'anticipo della quindicesima giornata del campionato di prima categoria Girone H. I gialloblu, reduci dal successo interno sulla polisportiva sala, hanno 29 punti. I verdi, a quota 16 in classifica, nell'ultimo turno hanno perso di misura Bagno di Romagna. Le prime due occasioni sono per Sorrentino. Al decimo il centravanti dello Iang chiama la parata Renzetti con una deviazione aerea. E una manciata di secondi dopo incrocia troppo da buona posizione. Al ventesimo ancora Sorrentino protagonista, quando si inserisce bene alle spalle delle difese di casa e tenta il tiro di potenza. Il pallone finisce però fuori. Al trentanovesimo Sorrentino viene fermato con le cattive in area e il signore Partisani di Rimini indica il dischetto. Lo stesso attaccante si incarica dell'esecuzione. Renzetti è spiazzato. Sant'Arcangelo avanti 1-0 all'intervallo. In avvio di ripresa Fuch intercetta un pallone sulla mediana e trova tra le linee Sorrentino, che a tu per tu con Renzetti si divore il raddoppio. Al quarto d'ora cross di Molari, la deviazione di Zaghini verso la sua porta, chiama Isa gli straordinari. Al trentottesimo rosso per Berardi e Sant'Ermette in dieci. Al quarantesimo Isa si supera sul diagonale di Giudetti da ottima posizione. Al quarantatresimo punizione dalla tre quarti per il Sant'Ermette. Molare di testa insacca il classico gol dell'ex. È festa grande per i Verdi. Finisce 1-1. Lo Yang Sant'Arcangelo sa da quota 30 ed è sempre secondo alle spalle del Riccione Calcio 1926. Il Sant'Ermette sale a 17. Il Sant'Ermette. Grazie.